scelgo una posizione comoda seduta o sdraiata che mi consenta di mantenere viva l'attenzione quindi non troppo rigida ma nemmeno troppo rilassata e porto quindi la mia attenzione al respiro se ho bisogno di fare un respiro più profondo lo faccio lasciando che sia il corpo a decidere secondo il suo bisogno e io osservo il respiro lungo profondo se invece il respiro piano piano si fa sottile breve superficiale io lo osservo farsi sottile breve superficiale sto con quello che c'è secondo il bisogno del momento e seguo il mio respiro durante tutta l'inspirazione e durante tutta l'espirazione l'aria entra nelle narici scende nei bronchi nei polmoni si abbassa il diaframma si gonfia la pancia poi il diaframma torna su la pancia si sgonfia l'aria esce dai polmoni esce dalle narici e io tengo la mia attenzione lì al respiro durante tutta l'inspirazione e durante tutta l'inspirazione inspiro espiro Il asi è pata Ciao Grazie Il riso Tengo la mia attenzione in un punto, o vicino alle narici, oppure al petto, oppure alla pancia, che si gonfia e si sgonfia. Stiamo allenando a tenere la mente in un punto. Al respiro, che può essere osservato vicino alle narici, oppure al petto, oppure alla pancia, che si gonfia e si sgonfia. Se sentiamo delle tensioni o del dolore nel corpo, cerchiamo di osservarlo, di fare spazio dentro di noi, un grande spazio, in modo da poter guardare questo dolore, guardare questo fastidio, questa irritazione, senza desiderare di mandarla via, senza volerla cacciare. Ma per fare questo, prima dobbiamo creare un grande spazio dentro, un grande enorme spazio, e la capacità di tenere la mente in un punto. All'aria che entra e che esce. Con questo tipo di attenzione, ora, portiamo l'attenzione sopra la testa, sulla cima della testa, e sentiamo le sensazioni sulla cima della testa. Se c'è dolore, pulsazione, fastidio. Osserviamo, accettiamo quello che c'è, così com'è, senza desiderare di mandarlo via, senza voler cacciarlo. Ora, cerchiamo di andare dentro in questa sensazione, di sentirla, com'è, com'è fatta, che sapore ha, che consistenza ha questa sensazione. Inspiro, espiro, e sento le sensazioni sulla cima della testa. Non è una visualizzazione, non stiamo immaginando, vedendo, ma sentendo le sensazioni. Più andiamo dentro nella sensazione, e più questa magari si sposta, si muove, cambia. E noi stiamo lì, senza desiderare che accada qualche cosa di specifico. Semplicemente entriamo dentro in quello che c'è, così com'è. Portiamo, quindi, l'attenzione alle tempie. Anche qui, se c'è dolore, sentiamo com'è caldo. Pulsante, bruciore, vibrazione. Sentiamo semplicemente la sensazione, senza giudicarla, senza dire se è brutta o se è bella. Semplicemente stiamo con quello che c'è, entriamo dentro. Dobbiamo avere il coraggio di entrarci proprio dentro, di sentirla a fondo. E così facendo, magari, la sensazione si scioglie. Oppure no. Stiamo quindi ad osservare le sensazioni nella tempia sinistra. La tempia destra. E tutte e due le tempie insieme. La parte posteriore della testa. Cerchiamo di sentire se c'è dolore. Dov'è? Nella parte destra, nella parte sinistra. E com'è? Che consistenza ha? Senza giudicare. Semplicemente sentendo il calore, oppure il freddo. la durezza, la morbidezza, la sensazione di questo dolore, di questo fastidio. Sentiamo sensazioni nella zona della fronte. Sentiamo, quindi, i muscoli della fronte. Andiamo dentro, in profondità, nella sensazione. Semplicemente da osservatori. Senza desiderare che la situazione sia diversa da com'è. Senza voler mandar via una sensazione spiacevole. E senza, tanto meno, desiderare una situazione piacevole. Ma osserviamo quello che c'è, la sensazione che c'è nella fronte, che sia essa piacevole, spiacevole o neutra. Morbidi, rilassati. Senza rigidità, senza contrarci. Non stiamo andando da nessuna parte. Non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Nessuna meta. Non c'è giusto o sbagliato. Semplicemente essere. Stare nella sensazione, così com'è. Osservare la natura della sensazione, in questo momento, ora, adesso, così com'è. Senza elaborare pensieri, interpretazioni, giudizi, aspettative, fantasie. Stiamo nella sensazione adesso. Sentiamo, quindi, sensazioni negli occhi. La superficie degli occhi. E la profondità. Prima l'occhio sinistro. In profondità. I muscoli dietro l'occhio, che muovono l'occhio. E sentiamo come queste sensazioni si spostano, si muovono continuamente. Cerchiamo, se c'è dolore, di stare lì nel dolore, di sentire dov'è. E magari, mentre cerchiamo di stabilire dov'è, ci accorgiamo che è scomparso, che non c'è più. Magari è andato da un'altra parte. E allora, di nuovo, cerchiamo questa sensazione dolorosa, dov'è, senza giudicarla. Semplicemente osservandola. Entrando dentro, nella sensazione. L'occhio destro. Sentiamo nell'occhio destro che sensazioni ci sono di pressione, calore, umidità, vibrazione, bruciore. Sentiamo quello che c'è. E tutti e due gli occhi insieme. La mandibola. Sentiamo se ci sono tensioni, rigidità. E anche qui, senza giudicarci, senza giudicare, senza aspettative, sentiamo semplicemente quello che c'è. Nella parte sinistra della mandibola. Entriamo dentro queste vibrazioni. Sentiamo se c'è rigidità. La parte sinistra. La parte sinistra. La parte sinistra. in tutta la mandibola e piano piano lasciamo andare tutte le rigidità se abbiamo bisogno facciamo un respiro più profondo e lasciamo andare tutta la rigidità che c'è nella mandibola sentiamo sensazioni nella zona della lingua all'interno della bocca sul palato i denti, le gengive l'arcata superiore l'arcata inferiore l'arcata inferiore tutta la bocca tutto l'interno della bocca e sentiamo sensazioni alla base del collo nella zona di unione tra la nuca e il collo e anche qui stiamo con quello che c'è senza desiderare di essere da un'altra parte o di mandare via una sensazione spiacevole sgradevole se c'è dolore sentiamo com'è caldo, duro morbido freddo stiamo con la sensazione alla base della nuca e dietro il collo sentiamo sensazioni ai lati del collo e la parte anteriore del collo davanti nella zona della gola le spalle la spalla sinistra la spalla destra e tutte e due le spalle insieme la parte superiore della schiena sentiamo sensazioni nella parte superiore della schiena se c'è dolore cerchiamo di andare dentro in questo dolore in questa sensazione dolorosa senza paura se c'è paura entriamo dentro anche alla paura e sentiamo cosa c'è magari piano piano la sensazione si scioglie oppure no noi stiamo con quello che c'è così com'è e contempliamo l'impermanenza delle sensazioni come queste sensazioni si spostano cambiano continuamente più cerchiamo di localizzare il dolore più questo dolore si sposta cambia più facciamo spazio dentro di noi un grande spazio più ci accorgiamo che questo dolore non è in un punto preciso magari dove credevamo prima che fosse come si sposta allora lasciamolo andare lasciamo che si muova e noi osserviamo da semplici spettatori quello che accade dentro di noi le sensazioni nel nostro corpo e nella nostra mente osserviamo osserviamo quindi tutta questa zona dalla cima della testa fino alle spalle la parte superiore della schiena mantenendo l'attenzione al respiro e alle sensazioni se sentiamo pulsare da qualche parte nella testa nel viso lasciamo che sia e lasciamo andare tutte le interpretazioni tutti i pensieri tutti i giudizi stiamo semplicemente con questa pulsazione e facciamo un respiro più profondo e portiamo l'attenzione al petto e cerchiamo di indirizzare un po' di gentilezza amorevole verso noi stessi ripetendoci mentalmente un po' di volte che io possa essere in pace serena serena felice che il mio cuore possa essere sempre più colmo di amore che io sia in salute e al sicuro che io possa amarmi sempre di più perdonarmi perdonare un po' ... che io possa essere felice e grata per tutto ciò che ho per tutto ciò che di buono c'è sempre Che io possa essere in pace, sereno, al sicuro, libera da tutti i condizionamenti. Grazie. 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 Grazie.